Buonasera telespettatori di Nettuno TV, canale 99 del Digitale Terrestre, il bene ritrovati anche gli ascoltatori di Radio Nettuno, siamo collegati con il 97 MHz per Bologna e provincia. Al termine del nostro notiziario ci collegheremo direttamente con la Basilica di San Petronio, possiamo già vedere le immagini in arrivo nella nostra regia. Naturalmente ci riferiamo al congresso eucaristico 2017, l'assemblea diocesana, chiese, città degli uomini. Questa sera seguiremo tutto, il programma prevede una diretta almeno fino alle 22.30, se il programma verrà rispettato. Come vedete sono già le prove dei cori in corso in questi minuti, dalle 18 una vera e propria festa si sta svolgendo in Piazza Maggiore, con tanto di anche banda musicale sul Sagrato, l'assemblea di San Petronio come dicevamo fino alle 22.30, con Monsignor Zuppi, il sindaco Virginio Mero, la tante altre personalità e centinaia e centinaia di bolognesi presenti, perché l'invito è esteso a tutti gli uomini di buona volontà. Veniamo ai temi di questo giornale che va in onda in edizione Flash, proprio per dare la linea alla nostra regia nella Basilica di San Petronio tra pochi minuti. Parliamo di quanto è accaduto sull'autostrada Milano-Venezia, nel pomeriggio un pullman carico di tifosi della Fossa dei Leoni si è incendiato, come vedete dalle immagini che in questo momento vi sta proponendo la nostra regia. Oggi pomeriggio nel tratto autostradale, compreso tra lo svincolo di Padova Est sulla 4 e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova in direzione Venezia. Improvvisamente ha raccontato un testimone in diretta poco fa su Radio Nettuno, il mezzo si è spento, tutti i componenti sono quindi stati fatti scendere e nel giro di pochi minuti le fiamme hanno completamente avvolto il pullman, come potete vedere, davvero rimane solo la carcassa metallica e nulla più. Nessuno dei tifosi a bordo è rimasto ferito e nel giro di un paio d'ore hanno potuto riprendere il viaggio alla volta di Trieste. Alcuni approfittando del passaggio di altri tifosi in auto, mentre una trentina hanno dovuto attendere un mezzo sostitutivo. In quel tratto della 4, a causa dell'incendio, si sono formate code nell'ordine anche dei 7 km, poi via via, dissolte. E sempre rimanendo in tema autostradale, diciamo così, un tragico incidente. Questa mattina, poco prima delle 6, sull'autostrada A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione nord, nello schianto in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion, una persona è morta, due sono rimaste ferite. La vittima è una donna di 59 anni, originaria di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot, su cui viaggiava la donna insieme al marito, un 66enne, anche lui di Brindisi, che guidava, ha tamponato il camion in prima corsia. In seguito allo schianto, la 59enne è morta sul colpo, mentre il marito è rimasto lievemente ferito. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della direzione terzo tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. In seguito all'incidente si è formata una coda di diversi chilometri nelle due corsie su cui correva il traffico. Voltiamo pagina. Oggi le città metropolitane hanno firmato la carta di Bologna per l'ambiente. La firma si è tenuta alla rocchetta Mattei, siamo in zona Riola di Vergato. La giornata è iniziata questa mattina con il viaggio in treno dalla stazione centrale di Bologna a quella della cittadina e poi in Pullman ci si è recati alla rocchetta. Oltre ai sindaci delle città, i rappresentanti di varie realtà coinvolte come Tipper, Edison, Trenitalia, alle 13.30 hanno raggiunto il gruppo anche il presidente della regione Stefano Bonaccini e il ministro Gianluca Galletti, proprio in tempo naturalmente per la firma. Sentiamo le sue parole riguardo all'iniziativa. L'intervista è raccolta da Eleonora Monari. La gran parte dei cittadini italiani vivono nelle aree metropolitane. È chiaro che per fare una politica ambientale che produca effetti bisogna avere delle politiche ambientali omogenee e che tutti si impegnino. La carta di Bologna chiama tutte le aree metropolitane ad impegnarsi su determinati obiettivi. Se tutti facciamo la stessa cosa e la facciamo bene, abbiamo un ambiente migliore. Noi abbiamo un bando chiuso che riguarda la mobilità sostenibile. C'era un articolo nel collegato ambientale che stantiava 35 milioni per migliorare i percorsi casa-scuola, casa-lavoro. Quel bando ha funzionato benissimo. Abbiamo avuto tantissime richieste dai comuni. Erano 35 milioni, ma le richieste che abbiamo avuto sono molto di più di 35 milioni. Noi ci metteremo le risorse che sono necessarie per coprire gran parte delle richieste fatte dai comuni. vuole dire che ci aggiungeremo 20-25 milioni ancora per poter ampliare questo strumento che ha dimostrato di funzionare molto bene. Noi abbiamo una strategia di sviluppo sostenibile che abbiamo già presentato, che ha l'attenzione anche degli altri ministeri. Fra un po' la porteremo in Consiglio dei Ministri e poi la porteremo anche in Parlamento. Si svolgerà all'hotel Regency, dove si svolgono anche le altre iniziative del G7 Ambiente, la cena di gala tra i ministri e non nel centralissimo Palazzo Renzo, come inizialmente previsto. Non ci sarà quindi nessuna zona rossa, ne avrete sentito parlare, nel centro di Bologna. Non ci saranno particolari limitazioni all'accesso pedonale alle vie principali, come era stato invece preannunciato ieri dal Comune. Anche questa mattina in rassegna stampa leggevamo tanti titoli allarmati da questa zona rossa, che invece non ci sarà. Lo ha deciso il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che si è riunito in Comune. Andiamo a sentire sempre il Ministro Galletti, appena presa la notizia, questa mattina. Vediamo. Io ringrazio il Prefetto Piantedosi, le Forze dell'Ordine, per come hanno condotto finora tutta la sicurezza delle manifestazioni che abbiamo avuto in questi giorni. Non vogliamo rovinare una festa, non la vogliamo rovinare. C'è un contesto internazionale che è un contesto che procura preoccupazioni e io non voglio neanche che si disturbi la città. Allora, se spostare la cena di gala, che poi era una cena di lavoro, può aiutare a non creare disordine, a mantenere quel clima sereno che c'è stato in città in questi giorni, a continuare a parlare dei contenuti, non sviarci su altre cose, io lo accetto molto volentieri. Non è una cena che sposta la riuscita del G7. Abbiamo perso un'occasione che secondo me era importante, ma Bologna in questi giorni è apparsa sui telegiornali e sui giornali di tutto il mondo. Penso che l'obiettivo l'abbiamo già raggiunto. Dopo tre ore di arringa, il PM Morena Plazzi ha chiesto la condanna per sei ex consiglieri regionali del Partito Democratico, con in testa l'ex capogruppo Marco Monari e la soluzione per altri sette. Il processo vede alla sbarra 14 ex consiglieri con l'accusa di peculato per le cosiddette spese pazze, come cena in ristoranti stellati, viaggi, hotel di lusso, consulenze e regali vari. Tutte voci messe a rimborso tra il giugno del 2010 e il dicembre del 2011. La richiesta di pena più alta è a cinque anni per l'ex capogruppo Monari, che rispondeva sia a delle sue spese personali, cena in ristoranti di lusso e weekend in hotel di rango, sia in concorso per quelle degli altri, visto che come capogruppo le aveva approvate. Nell'ambito del cartellone All for the Green del G7 Ambiente, è stato inaugurato ieri il giardino riqualificato di Piazza Cavour, realizzato da Ascom Bologna in collaborazione con Emil Banca. Le voci di Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil Banca, Enrico Postacchini, presidente di Ascom Bologna e Davide Conte, assessore comunale al bilancio nel servizio, che possiamo ora vedere insieme. Il Banca non poteva essere assente in un evento così importante. Assieme a Dosco con Commercio, per tre anni garantiremo, oltre che la sistemazione come è già avvenuta di questa bella piazza, anche il mantenimento. È un'iniziativa che va nella direzione di Banca di Comunità. Siamo diventati una banca di interesse regionale ormai, però non dimentichiamo le nostre origini, le nostre comunità di riferimento e quindi siamo qui anche oggi per dare una mano alla nostra bella città. La settimana del G7, quindi settimana in cui la città si mette in mostra, ci è sembrato giusto dare questo segnale di attenzione verso le anche piccole aree verdi del centro storico, questa è in una zona che è un po' il cuore dello shopping di alta gamma, e quindi, come abbiamo già fatto in tanti decenni, continua l'operazione di riqualificazione delle aree e soprattutto, ricordo, l'impegno non è tanto alla riqualificazione ma al mantenimento poi delle aree in queste condizioni. Quindi c'è un impegno di almeno i prossimi tre anni per mantenerle in questo stato. Bologna è al centro del mondo con la sua università, con le sue amministrazioni e con le sue aziende. Il G7 è un'occasione ulteriore per portare a Bologna i politici di tutto il mondo per discutere delle priorità di questo pianeta. Non si muove una foglia in questa città senza che venga fuori il grande valore del capitale sociale che sta alla base e alle radici, visto che parliamo di alberi, della nostra comunità. Questa fiducia e questa voglia di lavorare insieme. Da assessore al bilancio me ne rendo sempre più conto e lo vedo benissimo oggi. Se sappiamo mettere insieme le nostre risorse l'effetto è un effetto volano straordinario per il benessere della nostra comunità. Bene, si chiude qui la nostra edizione flash del telegiornale serale di Netuno TV e Radio Netuno perché tra pochi istanti dopo la pubblicità saremo collegati con la Basilica di San Petronio, l'Assemblea Diocesana, Chiesa e Città degli Uomini per questo grande appuntamento che Netuno TV vi offre assolutamente in diretta. Grazie per la vostra attenzione, grazie a Mario Giulianti per la parte tecnica, alla nostra attività redazionale oltre all'appuntamento di questa sera. Tornerà domattina alle 7 con la rassegna stampa. Buon proseguimento di serata.